Sono passati ormai quasi 50 anni da quando mia mamma mi fece vedere un'immagine molto spettacolare, questa qua, e mi disse questo è un vulcano, è una montagna che sputa fuoco e sputa anche una sorta di pietra che è così calda che è fusa, che è liquida, si chiama lava. Evidentemente questa cosa mi ha fatto una certa impressione perché qualche annetto dopo mi sono messo a dipingere per la prima volta un vulcano in piena eruzione, così come un bambino disegna un vulcano con la lava che scorre giù i fianchi esageratamente ripidi di questo vulcano. Poi passarono ancora altri anni e ho cominciato a veramente affascinarmi di vulcani e quindi a seguirli attraverso i media dell'epoca, stiamo sempre parlando di più di 40 anni fa e quindi erano giornali, era la radio, era la televisione, nero e bianco. E fra tutti questi vulcani di cui ogni tanto si parlava, perché entravano in eruzione e facevano parlare di sé, ogni anno almeno una o due volte si parlava di un vulcano particolare, quindi molto attivo, fra i più attivi al mondo, e quindi questo l'ho cominciato a seguire in particolare e ho cominciato anche a sognare di questo vulcano, di visitarlo, scoprirlo, forse un giorno anche di viverci, perché allora ero ancora in Germania dove sono nato, dove poi mi sono messo a studiare scienze della Terra, geologia, perché avevo questo sogno di diventare un vulcanologo e poi di andare a vivere, ecco, su questo vulcano particolare, eccezionale, dove adesso effettivamente ci vivo, ci lavoro e potete immaginare già quale vulcano sia, giusto? È la nostra signora molto molto focosa. L'Etna, un vulcano veramente straordinario, eccezionale, che ha sin dall'inizio della storia dell'umanità in convivenza con questo vulcano affascinato, fatto impressione a che ci ha vissuto, anche gli antichi greci, per esempio, che consideravano l'Etna la dimora del loro dio del fuoco, Ephaistos, che poi fu adottato dai romani per diventare Vulcanus. Un vulcano, come ho detto, straordinario, un vulcano che cambia, che si reinventa quasi in continuazione e se avessimo a disposizione un mezzo di trasporto molto particolare, che sarebbe la macchina del tempo e questa ci potesse portare indietro fino all'inizio del secolo scorso e potessimo guardare dall'alto verso la vetta di questo vulcano, è questo che vedremo. Un singolo grande cratere sommitale dell'Etna, il cratere centrale che già esisteva da molti secoli, però poi sembra che a questa signora focosa non ci fosse più bastato un solo cratere sommitale e così ha fatto in modo che ci fosse una sorta di proliferazione di crateri sommitali e così oggi ne contiamo non meno di quattro, i crateri nord-est, quello più alto, la Voragine, la Bocca Nuova, i crateri di sud-est, anzi dovremmo dire quattro e mezzo perché negli ultimi cinque anni si è aggiunto il fratello del crateri di sud-est che con tutta la nostra immaginazione, fantasia, abbiamo voluto chiamare il nuovo crateri di sud-est. Che poi in questi ultimi anni penso che molti di voi, molti di noi l'abbiamo visto, a volte ha destato un po' di preoccupazioni ed eccolo qui, il figlio più giovane della grande mamma Etna, che sta facendo questa cosa che spesso ispira la gente di qua a dire ma oggi l'Etna sta fumando molto più del solito, l'Etna fuma, no, l'Etna non fuma, perché quello che fa fumo è roba combustibile che brucia, questo in un vulcano non succede né sull'Etna né su qualsiasi altro vulcano sulla Terra, invece quello che vediamo sempre uscire dall'Etna, soprattutto quando c'è poco vento e questo si alza nell'aria, è nient'altro che gas, sono diverse specie tra cui anche alcune molto sgradevoli e poi quella più abbondante in assoluto, effettivamente è un gas che conosciamo dalla vita quotidiana, lo conosciamo molto bene, il vapore acqueo, vapore acqueo che viene dall'interno della Terra ed esce dall'Etna in quantità veramente impressionanti, dovete immaginare che ogni singolo giorno dall'Etna viene emessa la bellezza di un milione di tonnellate di vapore acqueo, almeno un milione, che corrisponde a circa un miliardo di litri di acqua. E che fa questo vapore acqueo? Il vapore acqueo si comporta un pochettino come un altro gas che conosciamo molto bene, lo conosciamo per esempio nelle nostre bibite frizzanti, che sarebbe da CO2, l'anidride carbonica. Possiamo immaginare per esempio una bottiglia di spumante, quando è chiusa questo gas non lo vediamo perché è disciolto nel fluido, quando invece si decomprime questo ambiente, stappando la bottiglia, il gas si libera, si separa dal fluido e forma bollicine che crescono molto rapidamente. Nel caso del vapore acqueo, quando questo succede, aumenta di volume di 17.000 volte, il che è un processo molto esplosivo, soprattutto quando non si tratta di spumante, ma invece di roccia fusa, magma, quindi questo magma viene trasformato in schiuma, ma questa schiuma viene strappata in miriadi di pezzettini di roccia vulcanica che poi vengono lanciati in eruzioni esplosive nell'atmosfera, formando questi impressionanti pennacchi come quelli che abbiamo visto poco tempo fa, all'inizio di dicembre 2015. E questi frammenti li chiamiamo, quando sono piccoli come granelli di sapere, li chiamiamo cenere vulcanica, quando sono pezzettini di qualche centimetro parliamo di lapilli. Tutto quello che è più grande, di circa 6 centimetri e mezzo, li chiamiamo bombe vulcaniche, anche se queste non esplodono. E quindi questo materiale viene lanciato nel cielo e forma genericamente quello che chiamiamo tefra o materiale piroclastico. E quando c'è molta cenere, molto materiale fine, in questi pennacchi, in queste colonne erutive, si possono anche formare, come ultimamente osservato, dei spettacoli, delle spettacolari scariche elettriche, dei fulmini, lampi. Questo materiale quindi viene lanciato anche fino a molti chilometri di altezza e poi ricade sul nostro territorio, cade su tutto, copre tutto con uno strato di detrito vulcanico nero, copre strade, case, balconi, terrazzi, terreni e causa problemi. Per esempio rende le strade molto scivolose, quasi come se fosse neve, solo che questa neve è nera e non si scioglie, però invece bisogna puliziare. E qua cominciano già i problemi, perché qua la grande passione non è proprio quella di fare pulizia fuori da casa nostra, no? Però se no il problema è che, ecco, le strade sono scivolose. Se invece questo materiale non si toglie, ci passano sopra tante, tante, tante macchine, questo materiale viene frantumato sempre di più e diventa man mano polvere molto sottile che poi si alza nell'aria e riduce la visibilità per chi si trova sulla strada e poi viene anche respirato da chi ci si trova dentro, sia nel traffico, sia la gente che ci vive. E là possono cominciare ad esserci veramente problemi seri anche per la salute e quindi ci conviene di fare eccezione, di superare noi stessi e cominciare a fare veramente pulizia e lavare questa roba qua, perché non deve restare sulle strade, non deve restare sulle nostre case, deve essere assolutamente elevata. E poi c'è anche un interesse proprio personale, soprattutto per gli autisti siciliani, che limiti di velocità di 10 km all'ora è un'offesa, no, per un autista siciliano? Quindi non può andare così. E poi si possono anche fare cose interessanti, teoricamente. E abbiamo già visto, ci sono certe ditte, per esempio una ditta New Age che ha messo in vendita online questa saponetta levigante con la cenere vulcanica dell'Etna, per trattare calli, fanno anche delle cremine per il peeling. è stato anche proposto di utilizzare questo materiale piroclastico di ricaduta come materiale di costruzione. Così semplice non è perché, per esempio, in questo momento questo materiale ha ancora dichiarato rifiuti speciali, che richiede una procedura estremamente complicata, costosa, non molte imprese sono specializzate in questo. e quindi è un problema che resterà con noi per un po', anche perché l'Etna sembra in questo periodo molto decisa di andare avanti con questo tipo di attività molto esplosiva e quindi avremo ancora a che fare con questi problemi, penso, durante la nostra vita. E quindi dobbiamo inventarci soluzioni. Nonostante, per essere in tema, nonostante questi problemi però l'Etna magari ci vuole anche dare certi messaggi e, per esempio, guardare solo intorno a noi, vedere come, per esempio, la natura gestisce questo fatto della ricaduta piroclastica. E vediamo che, per esempio, le piante non sembrano soffrire più di tanto, soprattutto a lungo andare. Questo materiale è estremamente ricco in minerali e nutrienti per le piante, quindi un fertilizzante potentissimo. E l'abbiamo potuto vedere in questa estate con la fioritura. Prima in primavera c'era la ferula, poi c'era la ginestra dell'Etna, c'era il castagno dell'Etna, una fioritura eccezionale e sicuramente l'ha aiutato tantissimo anche questo nuovo arrivo di tanta di questa roba piroclastica. Però forse l'Etna ci vuole dire ancora altro. L'Etna sicuramente si fa sentire e si farà sentire sempre per insegnarci certe cose. ci domanda, nonostante i problemi che ci causa, di fare attenzione, si fa notare, è quasi come se ci volesse dire, sveglia! Prendete coscienza! Prendete coscienza di dove vivete e perché ci vivete e su che cosa vivete. cominciate ad apprezzare, cominciate a tirare vantaggio di quello che vi do io, perché sì, ogni tanto vi do qualche schiaffo, però vi do anche tante altre cose. Vi do l'occasione di riflettere, vi do l'occasione di apprezzare quello che vi ho creato, che vi sto dando. Per esempio questo terreno qua, sul quale è stata costruita la città di Catania, non ci sarebbe senza le colate di lava che sono entrate nel mare una dopo l'altra per creare questo terreno sul quale è stata largamente costruita la città di Catania. E poi non esisterebbe tutto questo mondo dell'Etna, la montagna, un universo, anzi tanti piccoli universi messi insieme con tante di specie, di piante uniche al mondo e quindi questa è l'occasione di ricordarci e prendere veramente coscienza che qua viviamo in un posto straordinario e viviamo su un vulcano eccezionale che io chiamerei addirittura non solo il vulcano più affascinante al mondo ma anche quello assolutamente più bello e ora vedrete perché. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 ... 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